I concittadini sono ventini a Vaffitani e qui devono venire a vedere questa mostra. Nessuno meglio di voi ce l'ho pubblicato. Devono venire a vedere questa mostra perché questa mostra è piena di opere d'arte di più di unissimo piano. C'è la Madonna del Pesce e la vediamo di fronte al suo modello classico, la statua di tempo imperiale che ha fatto riferimento alla mostra. E poi ci sono queste opere di straordinaria originalità che si trovano solo a Napoli perché gli artisti spagnoli sono italiani nell'alto rinascimento di Leonardo, Raffaello, Michelangelo, un mestre, una libertà immettiva che altri artisti non hanno. Un po' come i grandi giocatori sudamericani che vengono in Italia e fanno quelle giocate che solo loro sanno fare. La fantasia. Ce n'è più per nessuno quando loro inventi. Il santo provettore di piano di sorrendere è il San Michele. Gianni è uno spaventolo di San Michele, Michelangelo. No, ma dobbiamo cominciare. La rifate noi. La rifate noi.